ciao salve a tutti sono dal mio amico questa è la bellissima regina che ancora è qua anche se il tempo non mi ha permesso di arrivare per tempo gli spazi che gli ho dato sono giustissimi e quindi loro portano sempre un bellissimo alveare adesso vado scusate per la ripresa devo poggiare un attimo il telefono questa è l'altra bellissima regina è qua eccola qua dell'altra colonia sono tutte qua sono tutte qui spazi che hanno ricevuto sono perfetti è bellissima loro sono quella famigliola che ho salvato ai favi la parte del favi che ho aspettato per aiutarle vediamo probabile che li hanno con questi due qua probabile che li hanno già trasformati tutti adesso li posiamo il melare allora sono quelle che si sentono in volo non sono loro sono quelle di un'altra alveare ecco la regina qua c'è un'altra alveare qua c'è pure il favi bene lo ha salvato sopra non è diventato bene questo è uno dei favi che hanno ripostruito loro guarda che bello questa parte qua non li posso scusare vanno l'impegata per la maggiore tutto a cuore guarda che è stabile e resistente una volta che vedremo la prossima volta tagliamo la metà che vanno la prossima per cui la metà per cui dalla metà per cui la metà per cui vanno una volta in l'impegata in l'impegata per cui l'impegata per cui la metà Stanno finendo, mi puoi spugnare qua, sono attaccati, sono stabilissimi. Un pupolino, un grande rovole corci. Ne escludi regina, ne escludi regina per qui. Sono dei lari che sono già costruiti, altrimenti non gliel'avrei dato. Avrei dato spazio formando una famigliola. E poi ristrecce un melario da tirare, con cieli da tirare. In caso invece ce l'hanno costruito, lo rocco. Questa era una scorta che praticamente ci ha ricovato. Adesso vediamo no c'è, che l'hanno costruzzato. Adesso dovevo scalare. In certdo caso dovevo scalo. Anche sono il mio limone tirato. questo lo do più centrale ora viene è un'ottima importazione adesso devo scala è un'ottima importazione è un'ottima importazione un saluto a tutti al prossimo video scusate le interruzioni ma si alzano i venti bisogna poi sbrigarsi